ciao a tutti squali pesciolini sono mammy dd dell'italian sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio sono in compagnia del nostro amico ema 98 che non vi possa allora l'ha detto l'ha detto grande sta facendo praticamente un rito voodoo satanico e ragazzi intanto che noi dobbiamo fare la nostra missione in questo episodio siamo nella serie 1.8 una mission impossible dobbiamo trovare più diamanti del team wasp assolutamente importantissimo ci siamo già portati a livello 8 io intanto sto per impostare aspetta il cronometro perché abbiamo 10 minuti di tempo 10 un attimo ragazzi sto impostando il cronometro ecco qua ma piante che mi sto cronometrando anche io eh giusto ah ragazzi c'è anche wasp salutatelo ciao 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 c'è anche il tizio quindi che è l'uscita in fondo a destra va bene allora ema 98 sei pronto possiamo andare ah ragazzi ci siamo dotati entrambi di spade di ferro di piccoli di ferro torce cibo pietra e tutto allora 3 2 1 via è partito siamo partiti ufficialmente dobbiamo trovare più diamanti possibili abbiamo solo 10 minuti ragazzi se vedete un diamante avvisateci dobbiamo vincere dobbiamo vincere anche questo episodio non ne mette in sulla faccia il partito è fatto da lui cioè o meglio l'altro episodio non è sicuro che l'abbiamo vinto però sì dai speriamo di sì che cosa vi possiamo dire che facciamo mettiamo una musichetta qua sotto eh ma tanto ora tanto ora tanto ora tanto sei in zona diamanti perfetto però vediamo io metterei comunque una musichetta di sottofondo anche se diremo qualche cavolato ogni tanto però ve la metto ragazzi perché sennò deve essere tutti scatole diamante 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 l'ho trovato l'ho trovato gg 1 2 3 4 5 6 7 8 diamanti eh ma eh ma vieni al depositare vieni al depositare vieni al depositare non piangere non piangere non piangere non piangere non piangere ahahahahahahahahah ma sì tanto ormai abbiamo trovato 8 diamanti 8 diamanti cioè ragazzi oro pure oro pure prendi 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 tutto prendi tutto si ma se ci fermiamo a prendere il carbone qua è finita cioè non è che mi posso una caverna Emma Emma ho trovato una caverna caspita sto qua trimo aspetta aspetta che butto l'acqua dai dopo la prendiamo allora allora vediamo se ci diamo un don di qua non c'è un don diamante si aspetta ma per caso per le diamanti a fine video male ancora ragazzi l'abbiamo già depositato nella cesta no no si 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 non siamo un hub non siamo un hub ora entro nel server e faccio tipo slash no 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 continua io bisogna cercare di trovare qua si ehm prendi la redstone a parte che ci servirà per fare magari un mondo pieno di rotaie no ma potremmo trovare dietro i diamanti oh la piscazzoli siamo ad altezza altezza veramente altezza ma io sono abbandonato non so che mi hai abbandonato eh che ti devo fare tu mi hai abbandonato la piscazzoli pure quelle hai trovato vediamo qua vediamo qua no ho perso l'acqua cavolo questo ci farà perdere un bordello di tempo allora vado a riprendere l'acqua Emma continua a scavare come lo zio schifezzo cavolo sono passati 3 minuti si 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 mi piace lo sai che fosse? lo vediamo di nuovo ma non l'ho riusciita no? l'acqua l'ho ritrovata? ehm ha ritrovata si 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 mi piace ma sempre nemmo anche in casa non andiamo non andiamo non andiamo non andiamo non ho messo uro uo che era un po' più buon da mettere tanto c'è tanto uro? uro uro ora non vale la facciamo valere pure loro se l'ha fatto una sorgente di lava io non allora si lascia no a partire ce n'abbiamo troppo direi che ci abbiamo tanto ferro e dire poco allora vediamo un po' senza cibo cazzo oh te l'ho dato come hai fatto? già te lo si è mangiato tutto da qua si sale da qua si sale il non è buono invece di qua invece di qua si muove effetto no devi vedere il c'è una riga che dice x y e z quella lì devi vedere e dove sta? se fai f3 oh ma mi scheletro aspetta subito non la la ma pure io è buggato appunto è buggato lo scheletro è buggato? e che cazzo non la la non la la non la la non la la allora se tu fai f3 dopo il primo blocco c'è la prima riga x y z ti dili no c'è ecco il secondo parametro devi vedere il secondo parametro devi vedere ok è troppo alto scendi come ci facciamo a riprendere come facciamo? a riprenderci dopo io ho comunque le coordinate di casa intanto cerca pietra rossa pietra rossa dai che ti ho bagliato i diamanti ragazzi ok vabbè tezza 10 anzi 9 è buono tezza 9 sì sì puoi andare ma sto andando verso casa un po' eh va bene è buono si 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 ma la cesta non perdere la cesta che sei scemo ok abbiamo dato la cesta bravissimo io ho le coordinate di casa quindi non potremmo perdere la cesta ok si abbiamo vinto si abbiamo vinto cioè eh se ne troviamo altri 8 è sicuro che abbiamo vinto siamo a 5 minuti e 56 ma il tempo scorre corre ma infatti c'ho solo redstone 1 euro io pure c'ho redstone 1 euro un po' di carbone non c'è perché il cagliato scolo perché poi il condimento è sempre lì forse non troviamo il diamante per questo questo è anche vero però lo sai che il diamante si trova ma non 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 esatto quindi siamo stati molto 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 pulirotti anche perché è una mini cioè una vena di otto pezzi è rara è rarissima ragazzi è rarissima è rarissima è rarissima esatto sì ne trovi due tre quattro per trovarne otto non devono spawnare vicino alla lava cioè ci stanno tutta una serie di condizioni gg gg per tutte eh? dai un piccolo diamantino dai qualche diamantino eh ma siamo a 7 minuti corri corri e trova un altro posto scava a livello 8 che ti devo dire non ci porta sfiga oh che figo però mi sta piacendo sta serie è iniziata da manco pochissimi giorni però è stata un'idea di Emanuele 98 va bene è un altro diamantino siamo a 7 minuti e 44 forza forza infatti sto lasciando tutto avrei scampito dove non comunque sembrano tanti 10 minuti ragazzi ma sono pochissimi mi aspetta dai 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 che cazzo mi frega uso il piccone di ferro ragazzi gli ultimi 2 minuti siamo 8 minuti e 0,6 8 minuti e 0,6 si usa il piccone di ferro siamo 5 minuti e 0,6 che è troppo di ferro forza 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 8 minuti e 25 dai 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 e ma corri corri trova sti cavoli diamanti ehi ma la miniera non ci serve a niente se non trovi diamante cioè diamante prova 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 cerca 8 minuti e 40 diamante diamante 1,2 ma vieni ma vieni altri tuoi diamanti ma vieni li ho trovati aspetta cavolo qua stanno guarda 3 4 qua stanno gli altri sicuro 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 trovo gli altri ragazzi 8 minuti e 55 e andiamo a chiudere con 12 diamanti questo episodio no non ci credo amici è troppo chiudi 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 no non ci credo 9 minuti e 30 quando siete 12 diamanti siete tranquillamente raggiungibili sì però vi sfido sono 9 minuti e 15 è un po' voi state giocando in due la nostra squadra se avremo un po' di fortuna sarà composta da tre persone vi potremmo arare tranquillamente 9 minuti e 30 9 minuti e 30 non ti far distrarre da waspe ma che ci vuole solo distrarre trova diamanti trova diamanti spensi bow 9 minuti e 43 9 minuti e 45 dai contro la rovescia 49 51 52 porca paletta porca 55 porca paletta 57 10 minuti eeeh diamanti ragazzi ok cioè ragazzi 3 stacche e mezzo di redstone e altri 4 diamanti e ma 98 vieni a vieni a depositare tutto nelle ceste va bene ok allora ragazzi vado a depositare nella cesta giusto per farvi vedere effettivamente con quanti diamanti abbiamo terminato non lo provo continuo a fare noi troviamo i vostri amanti si va bene si gli altri artes non solamente tanta 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 di enti nonostante allora ragazzi team mi dispiace per voi ragazzi è ufficiale chiudiamo quest'episodio con ben dodici diamanti emanuele 98 è stato utile come una capra morta te lo giuro stai scumato credilo non lo trovo in un diamante 12 12 in 10 minuti ragazzi che famo a proposito dobbiamo dire qual'è la prossima missione quindi stop l'episodio intanto decidiamo e ve la faremo sapere a tra poco ok ragazzi abbiamo finalmente deciso qual'è l'ultima la prossima missione che vedrete nel prossimo episodio dove vedrete i due team sfidarsi ancora una volta la vedete in sovrimpressione proprio in questo istante cioè o meglio è passato Lord Blood però state vedendo la missione del prossimo episodio detto questo sono un figo tremendo eh si 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 certo con la felpa rossa detto questo ragazzi vi salutiamo ci vediamo al prossimo episodio e non vedo l'ora di sfidare di nuovo il wasp team ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti